ma che riverente abbiamo iniziato con una cosa irriverente che non si potrà mai più dire in nessuna occasione qualcuno qui è offeso siamo qui per dana e che lascia il viso con grande mia ammirazione finalmente 5 4 3 2 1 sì elena dimmi si vedo dana praticamente come se stesse guidando un carretto a pedali con tre ruote una davanti e due dietro e dietro mentre lei pedale va avanti prende le cose da terra e le mette dietro al carretto lei rappresenta la sua essenza ok il carletto invece rappresenta il suo fisico quindi quello che mi vuol far vedere è che lei invece che vivere profondamente le cose poi rielaborarle e diciamo fare l'esperienza ok è come se fosse un po di staccata e le carica sul suo fisico quindi tutti questi sintomi sono dati proprio dal distacco dalla separazione tra la sua anima e il suo corpo monica mi fa vedere lei che dentro casa ma fa fatica a muoversi perché è come se intorno a lei invece che esserci l'aria ci fosse una sostanza densa lei la vorrebbe aspirare però nel frattempo è in questa situazione qua in cui fa fatica a passare da una stanza all'altra vi dà l'autorizzazione c'è come cercando di cerca di sfruttare il carretto ma continua a riempirsi quindi chiede di mostrarle la strada preso per alleggerirsi cinema marito due figlie e chi vuole venire sia anche il signore per cui lei aveva lavorato precedentemente viene poi vengono altre persone che seguono le sessioni e chi altri elena oltre al signore per cui lavorava arrivano anche cinque figli del signore per cui lavorava il marito le due figlie si vibrazione elena poi monica 8 miliardi 10 consapevolezza 153 155 si ps 39 41 vite 2047 2016 cervello 8.8 sì 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 monica nome del progetto di dana mi viene tipo la la regina della casa e allora come se la casa fosse per lei un ambiente che lei congeniale no le piace stare in casa per esempio a lei piaceva no stare in casa precedentemente in italia con le persone con cui era invece in questa casa in cui è attualmente ci sono molte più difficoltà molte più ostruzioni quindi a volte le sembra quasi di percepire come strane le persone che vivono con lei e quasi anche non so come dirti le pareti domestiche sì mi dice apri pista cioè lei è quella che inevitabilmente va per prima verso le cose perché si butta in maniera irruenta cioè maniera quasi completamente scollegata dalla mente che quindi a a volte a volte a volte buono perché fa un'esperienza in maniera molto genuina a volte si scotta nel senso che non prevede proprio niente e si trova si ritrova dentro senza quasi neanche sapere perché erena entità e teri che ci sono sì c'è questo questo umanoide molto grasso che appare quasi rotondo ok che tiene un cerchio di legno molto molto immenso che racchiude tutto il su tutto il paese di dana tutta la nazione dove vive dana tentati cioè muove questo cerchio tenendo tutti i cittadini dentro ok e se cercano di andare oltre rende il cerchio più stretto in maniera tale che non possano muoversi poi poi c'è un granchio c'è il mosto di granchio è però tipo una coda come uno scorpione però il colore dell'arancione rosso del granchio e poi c'è un leone seduto su un trono che ha la faccia da umano e due uomini del tempo sì quello che mi ha colpito è che lei vede il leone sul trono io ho visto il leone e invece sul trono ho visto zeus che sembra un po' mosee Monica mentali allora uno è tipo difetto di comunicazione dove mi fa vedere proprio questa specie di sconnessione mente corpo anima come se ci fossero da ripristinare i fili per la comunicazione e l'altra mi dà costrizione come se lei sentisse di vivere in una vita che da un certo punto di vista lei è troppo stretta in panni che non sono suoi in una relazione che non la rispecchia del tutto in una vita che non non so non la non la esprime diciamo così completamente livelli sono queste due solo sì sì solo queste due io vedo allora per il difetto di comunicazione direi che siamo torno al tre e anche per quanto riguarda l'altra della costrizione siamo su due tre Elena volevi vedere ne vedo anch'io due sì la prima vedo proprio questa distanza tra la sua parte animica e la sua parte fisica mentale la tengono proprio separata perché se non sarebbe troppo centrata con la sua forza e la sua irruenza sarebbe molto centrata andrebbe dritta all'obiettivo invece così separandola la tengono nella confusione la seconda che monica l'ha chiamata costruzione sì è come se lei si trova a vivere tutti i giorni un ruolo i ruoli vari quindi mamma moglie casalinga lavoro tutte queste cose qua ma in realtà è come se con la mente non riuscisse a stargli 10 cioè come se fosse il suo vero essere fosse sopra ok e edana invece è come se vedesse il corpo il suo fisico ok che fa tutti questi ruoli quindi proprio ma c'è qualcosa che vorrebbe cambiare ma non sa come uscirne ok impianti elena se c'è come un disco mentale c'è come come se fosse un pistone ok però fa piatto quindi c'è un discorso c'è un cerchio sotto è un disco che fa su e giù ok e comprime i suoi pensieri che comprime proprio quindi li appiattisce e come se lei non si ricordasse quello che stava per pensare un secondo prima e poi ci sono tutti questi micro impianti che sono tipo piccole sfere un po sparse in tutto il corpo ok che l'entità anche quelle eteriche utilizzano per bloccare dana ok quindi ogni tanto danno un impulso qua ogni tanto la ogni tanto sono intanto sulla schiena tanto i piedi gambe ok e varia molto in maniera tale che lei non si muova c'è anche un impianto c'è tipo un cilindro ok che molto stretto a livello dell'apparato riproduttivo monica di qualcosa di simile di diverso e sì in più ho visto una benda sugli occhi tenuta bella stretta e le polsi dietro la schiena altrettanto tenuti stretti proprio creando questa sensazione di un po costrizione un po prigionia causa esoterica dei problemi di salute spalla sinistra a me l'ha dato per esempio legato alle infedeltà del marito questa che da una parte come se lei si volesse liberare no di questi ricordi di questi vissuti pesanti però dall'altra invece ancora incidono se proprio un vedo uno di questi impianti che si accende ok quelli sparsi si l'ho visto anche in relazione alla sua al rapporto col marito ok una distanza c'è il braccio non va più nella sua direzione mi dice ok proprio non è bloccato non va nella direzione del marito ed è una non deglutisce bene da un spessimento del tessuto a furia di mandare giù il tessuto si è spessito e quindi adesso glielo fa percepire monica annuisce assolutamente monica il calo della vista allora il calo della vista mi fa vedere come per non vedere alcune cose della vita e poter tirare avanti questa benda diventa sempre più stretta questo le permette di continuare a rimanere nella propria vita no si dice chiudi un occhio e così e vai avanti in verità lei percepisce questo calo della vista e questo fastidio tra l'altro alla vista soprattutto al mattino quando di fatto l'anima sarebbe più predisposta e più spalancata a vedere le cose con chiarezza ma nel momento in cui c'è la possibilità di vedere la luce di vedere la verità ecco che gli occhi le due le dolgono perché l'unico modo che lei ha e non vedere per continuare a stare dove sta occhio destro sì proprio l'occhio destro e nel particolare lo vedo proprio riguardo alla sua situazione familiare qui riguardo alla vista è più anche estesa anche al rapporto con le figlie forse in particolare quella più piccola che un po contrastante vedo che è come se la figlia volesse sempre a tirare la sua attenzione quindi essere come se volesse essere lei la principessa della famiglia e quindi obbliga dana a mettere come se obbligasse dana allora prestare attenzione a lei e a mettersi da parte in casa ecco Monica dunque me lo dà riguarda la sua attitudine di cura come se lei si preoccupasse sempre di tutti dovesse stare dietro a tutti però invece avrebbe bisogno di avere più cura di sé sensibilità ai piedi Monica soprattutto quando scende dal letto al mattino causa esoterica se c'è perché non è detto che ci sia quando si iniziano a fare gli elenchi dei problemi di salute a volte ci si fa un po prendere la mano allora complessivamente io qualche abduction l'ho vista e vedo che in effetti quando ci sono queste abduction lei ha non so come dirti come un alloggiamento piedi al bordo del letto delle specie di placche a cui la appoggiano quindi lei in realtà è come se avesse questa sensazione di fastidio che lei percepisce su questa placca e il primo appoggio dei piedi al mattino lo replica io non credo che ce l'abbia sempre non mi risulta sempre sì anch'io ho visto le abduction e quindi è come se tendenzialmente le vedo molto verso il ma che finiscono verso il mattino ok quindi quando lei si alza è quasi come se l'avessero fosse appena tornata da un abduction ok quindi è come se scendesse dall'alto scendesse dall'aria e quindi quando appoggia come se avesse questa sensibilità un po votata come se avesse un cuscinetto sotto come se arrivasse dall'alto e si appoggiasse all'aria ok giramenti di testa elena l'entità mentale è la prima quella che la divide che divide la sua parte emozionale la sua ps dalla sua parte mentale quindi è proprio la confusione lo shaker a mento lo schiacciamento che usano con l'impianto schiacciamento dei pensieri è proprio questa confusione divisione monica se mi viene anche quasi come una specie di sforzo a unire tutti i pezzi del passato per dire questa è la mia storia che mi porto fino ad adesso questo sforzo proprio gli crea come un giramento di testa acufeni monica e allora dunque io gli acufeni li ho visti legati a quella che lei ha chiamato fattura però io allora non la vedo esattissimamente in termini di fattura la vedo più in termini di una sorta di legamento d'amore perché la vedo più fatta per collegare questa donna al marito quindi ovviamente per effetto collaterale lei doveva uscire dal gioco e quindi allora come se questo legamento prevedesse il nodo al cuore del marito in modo che questa donna potesse averlo per sé e invece per quanto riguarda dana come una serie di voci incessanti che gli dicevano lascialo stare vai via allontanati non è più roba tua eccetera eccetera si è proprio legato a tutta questa parte di infidelità del marito che lei non può più sentire queste cose c'è come proprio un bombardamento è come se la bombardassero di onde in eterico quasi come se fossero dei proiettili di suono molti molto densi ok di parole queste parole di tradimento del marito che continuano a entrare nelle orecchie calo della memoria io direi nuovo questo discorso che abbiamo fatto prima sia dell'impianto che va proprio a creare una specie di compressione nelle zone della memoria sia proprio anche questa disconnessione che lei ha perché è come se lei fosse divisa in tre pezzi la mente disconnessa per esempio dal corpo e poi dall'anima e se lei non fa questo tipo di collegamento è ovvio che viene a mancare la memoria perché la memoria in realtà dipende anche molto da questo tipo di connessione anche che c'è una volontà di dimenticare delle cose e nel voler dimenticare quelle cose in realtà poi ne dimentica anche altre no le trascina lena confermi e la leghi alla concentrazione calo di concentrazione sì quello è l'ultima cosa che ha detto monica voleva dimenticare delle cose la vedo legata anche all'altra entità mentale ok che proprio per dover stare in questa in questa vita in queste situazioni soprattutto della sua famiglia che gli sono scomode sia marito sia rapporto con la figlia ok dove stare alcune cose le deve dimenticare perché siano continuano a rimbombarli nella testa va bene cosa fa il marito davanti a queste parole nel cinema spallucce alzava un po le spalle non saprei io l'ho visto spaventato quasi come se si rendesse conto che dana si sta rendendo conto che forse questa è la volta buona ok e quindi spaventato di essere abbandonato va bene qui non c'è un bravo cattivo un buono un cattivo non c'è un giusto uno sbagliato ci sono delle scelte prenderne consapevolezza e agire di conseguenza questo è quello che vuole dana bene se questo è quello che non vuole dana ha poco senso un certo tipo di percorso domanda che evento fuori anche di recente fuori se in una coppia in questo caso il marito è cinivaccato e questo può incidere sul non cinivaccato dana sia in termini energetici generali dana spesso dice mi dà fastidio la sua presenza letto eccetera sia in termini proprio di scambio di fluidi corporei durante l'atto allora mi fa vedere al centro di tutto la consapevolezza il marito un uomo decisamente consapevole poco consapevole questa poca consapevolezza l'ha portato a delle scelte tra cui il cinivacc tra cui le infedeltà e quindi di fatto è questo nucleo di inconsapevolezza che porta dana a percepire questo rifiuto quasi a volte anche disgusto e a sentire quindi maggiormente quello che è l'impatto biologico del cinivacc sul corpo di quest'uomo perché quest'uomo non è stato in grado di fare nessun tipo di lavoro proprio perché non ha consapevolezza rispetto al cinivacc che c'è nel suo corpo ma con i fluidi corporei del corpo c'è del marito passa la spike passa qualcosa allora quello che io vedo è che io non lo riesco a vedere in maniera così elementare che passa la spike non mi ha dato modo di vedere questo è come se quello allora dunque è come se alcuni corpi fossero in grado di effettuare una maggiore disintossicazione e pulizia rispetto al cinivacc ok lo fanno sicuramente attraverso alcune sostanze proprio alcune proprio terapie che l'anti e lo fanno attraverso la consapevolezza lui non l'ha fatto né in un modo né nell'altro e quindi è come se i suoi fluidi corporei avessero un'altissima concentrazione di questo cinivacc ecco e lei percepisce questa roba qui quest'altissima concentrazione sì allora due aspetti uno è proprio che in eterico e come se il fisico cinivaccato diventa diventasse più denso nero e squadrato ok e invece dana comunque procede con i suoi ritmi al verso la sua consapevolezza e quindi in eterico si vede un corpo sempre più luminoso e sempre più tondeggiante leggero ok quindi anche a livello fisico questa cosa influenza e poi vedo che non è così scontato che con i fluidi corporei passi per esempio la proteina spike perché è come se dovesse vedo circolare vorticosamente nel corpo quindi è come se dovesse capitare lì in quel momento ecco quindi un po come una roulette russa e se dana fosse cinivaccata ci sarebbe passaggio cioè se essenzialmente riassumendo una questione di consapevolezza dana lo è e il marito lo è poco non lo è per niente quindi ci sta che una si è fatta uno si è fatto il cine va che l'altra no se invece sono entrambi non consapevoli ma casualmente lei non ha fatto il cine e lui ha fatto il cine passa più probabile nel senso che il fisico è più simile all'altro fisico esatto questi quindi la roulette russa diventa che praticamente poi non importa nulla nel caso di dana se con una dana non consapevole potrebbe quasi la certezza del ma interessante l'ex marito no scusa il marito influisce quindi sulla sua salute e influisce perché lei tutto quello che percepisce ora lo mette nel carretto dietro quindi sul fisico quindi influisce come c'è influisce in quel senso lì non lo non riesce a viverlo e superarlo nel senso quando lo quando gli arriva no l'emozione o l'esperienza ok con queste entità mentali che la separano e la le fanno dimenticare lei scarica tutto sulla parte fisica e la parte mentale emozionale la chiude proprio ok e la parte mentale lo vive in maniera superficiale e quindi va tutto sul fisico quel senso di la vedete la energeticamente parlando la barriera a letto tra lei e il marito sì sì allora dunque come se lei avesse creato delle barriere interne a sé in modo che non avvenga la comunicazione per esempio fra la propria mente la propria anima il proprio corpo e poi in più c'è una barriera intorno a lei che lei crea appositamente per mantenere la distanza dal marito va bene proprio che lui prova a entrare nella barriera e lei lo avverte come un intruso perché è fatto di un'altra sostanza rispetto a lei e alla stessa barriera monica sente qualcosa avvicinarsi alla testa di notte e poi avverte dei dolori appunto alla testa allora dunque allora mi aveva fatto vedere due cose allora mi aveva fatto vedere è un'entità che poi le faceva l'abduction però mi ha fatto vedere anche la visita di un disincarnato di notte però è come se lei avesse la possibilità di distinguere cioè che non sono esattamente lo stesso tipo di avvicinamento le è capitato quindi una volta per questa visita notturna del disincarnato e altre volte più volte per il primo approccio dell'abduction in particolar modo mi fa vedere questo come una propagine di quello che lei ha visto come questo enorme androide ciccione diciamo no una specie di propagine come se fosse un'ombra nera e manda lì per iniziare a eseguire l'abduction io vedo inoltre sì anch'io ho visto il disincarnato e le abduction a volte vedo che dopo i primi approcci del disincarnato questa presenza quando non riesce ad approcciare dana da solo utilizza il disincarnato a volte chiamiamolo questo disincarnato apriamo portale aureo e chiamiamo la persona che ha richiesto dana cioè l'amica italiana questo disincarnato mi sembra un nonno senza crotessi ma sì un nonno di dana se un nonno così ma non di dana cosa ha da dirle il nonno e mi sono prestata un gioco che non avevo neanche capito di cosa si trattasse la mia intenzione di avvicinarmi a terra diversa e poi è come se avessero usato una mia controfigura e non l'ho ben capito neanche io materno o paterno per me sono tutti due mancati dana paterno ha detto lui va da lei perché l'ha sempre vista molto fragile e cagionevole e quindi si è sempre preoccupato un po' per lei e anche da disincarnato e l'amica italiana chiamiamola e vediamo come la vediamo a me è venuta tipo su una sedia a rotelle insomma si vede no che ha tanti anni è un po' anche sventata ma allegra cioè che viene velocemente come se fosse contenta ecco di potersi ricongiungere ad ana no quindi è ben felice di essere qui no di poter ancora magari cantare un po' insieme e stare un po' insieme cosa cantano insieme e poveri i ricchi e poveri finché la barca va la berti va bene è messaggio di questa amica ad ana ti ho sentita come una figlia e ti sei occupata di me come se fossi tua mamma come tua nonna sono stati anni molto belli grazie per avermi accompagnata così dolcemente tutti i disincarnati che vogliono venire di tutte di questa vita di dana e di tutte le sue vite parallele eh io lo vedo molto di persone che sono caduti nei conflitti del paese lì sì una nazione sì ma anche tipo in Albania in Jugoslavia tanto non so mi viene una strana cosa come se questo omone enorme che Elena aveva visto che va a coprire tutto il paese praticamente no? è come se in un certo senso non so come spiegarti e diciamo così no? la colpa no? di tutti questi crimini venisse distribuita energeticamente sulle persone attraverso questo omone e procurando poi alle persone vari tipi di problematiche per esempio una problematica molto tipica loro è di sacrificarsi per gli altri di occuparsi del bene degli altri no? mhm perché di fatto è come questo senso di colpa storico che si realizza in questa maniera qui ok? ma come sta facendo anche dana e non lo sa alla fine lei sta sacrificando la sua vita vicino a un uomo che non è che le ha manifestato no? grande devozione e però non lo sa che il meccanismo è questo cos'è questo omone Elena è legato al secondo universo e vedo mi fa vedere questa energia che porta gli uomini le persone da essere verticali e poi pian piano diventare orizzontali e parte della terra quindi proprio portare pian piano il degrado fisico fino alla morte ma che cos'è un'entità è un'entità mentale collettiva no no è un'entità del secondo universo tutto sopra la romania sì è come se si fosse nutrito dell'energia di tutti questi conflitti di questi morti no? e questa energia così viene scaricata su questi abitanti appunto dell'area umania generando questo degrado di cui ha parlato Elena no? che da verticale boom cadono giù va bene sì è come se fosse circolare quindi tutte le volte la mantiene facendo questo lavoro di va beh non possiamo dire ai rumeni di staccarsi no perché potremmo chiedere ad Ana perché c'è la sua sessione ma possiamo chiedere a tutti i disincarnati di cui questa entità si nutre di andare nel portale aureo distribuendo ognuno di loro una vick con informazione preziosa tutti questi vanno o solo una percentuale mi dice 890 penso sì 890 mila monica mi viene come percentuale 33 per cento solo? è perché altri credono che sia stato giusto che questi conflitti che spesso sono l'insegna della religione no? no vabbè il 33 per cento riesce esce dal portale aureo in cui era andato e fornisce una vick nuova da portale aureo a il restante 67 un altro 40 per cento va si aggiunge il 40 quindi siamo su 73 o arriva a 40 40 sale a 40 no no un altro 40 in più si aggiunge va bene va bene tutti i parenti di dana l'amica italiana il disincarnato nonno e tutti questi 73 per cento tipo tutti dentro e lo chiudiamo si monica sì 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 ok va bene corpo emozionale e corpo mentale mentale i pensieri non sono suoi a volte emozionale vuota dentro senza desideri senza voglia di creare nulla causa esoterica principalmente le due entità mentali che creano proprio questa divisione tra le sue parti c'è proprio una divisione e e questo impianto mentale che le cancella i pensieri che lavora sulla sua memoria vedo leone sul sul trono che controlla che tutto funzioni quasi come se fosse controllone di una fabbrica che tutti i macchinari vatano con questo processo però elena chi ha costruito il leone dana quindi perché dana si regala questa esperienza l'altra caratteristica dei rumini e drammatizzare l'entità odiarle non volerle più non voglio più rettiliano non voglio più leone allora scegliendo di nascere in romania ha proprio come scopo l'esperienza di andare oltre il senso di colpa quindi riuscire a superare il senso di colpa dato da quello che gli è stato trasmesso dal posto dalla nazione in cui è nata no quindi prendersi cura degli altri sacrificando se necessario anche noi stessi ok per il senso di colpa di non abbandonare la famiglia ecco diciamo e nello specifico è più che altro incentrato su questo no quindi la sua esperienza è proprio ricostruirsi la sua vita ok superando tutti gli ostacoli e tutti i freni dati da questo questo importante zavorra del senso di colpa rispetto a quello che le è stato insegnato lei si è regalata una grande opportunità perché si è creata un po tutti gli ingredienti no quindi per esempio la fattura per esempio una famiglia un po difficile da portare avanti queste entità mentali che un po la terrorizzano la bloccano e tutta una serie di sintomi fisici legati all'abduction per capire che lei può giocare con tutto quanto può giocare con l'entità perché ne è lei la creatrice la padrona assoluta come la vedete adesso iniziano ad attivarsi i filamenti che creano la connessione tra la sua mente il suo corpo e la sua anima mentre prima erano spenti direi della si vedo proprio che quella divisione tra anima e mente e corpo che era come una paratia stagna ok adesso lei con un tasto lo può aprire tutte le volte che vuole ok e quindi la apre e crea i filamenti e più filamenti ci sono e meno la paratia si può chiudere quindi quasi come se il meccanismo si iniziasse a rompersi no quindi alcuni aspetti della sua vita non sono più bloccabili quindi inizia proprio a fare questo processo di integrazione delle sue parti cambia anche il proprio il colore da un arancione un po sbiadito ora si sta trasformando in un rosso vivo e va verso il blu nel frattempo può andare verso il cluster sembra un piccolo cimitero di quelli antichi con poche lapidi con qualche lapide ancora è come se facesse le pulizie le grandi pulizie e tiene tutto no tutta via tutto Monica cosa mette qua al posto di quello che ha buttato è come se rendesse dei fiori che sono stampati magari stampati sui tessuti stampati in un quadro è come se li estrapola li tira fuori quindi li rende reali e con quelli crea la d'eternum vedo proprio che è come se ci fosse un po' una roba simile perché è come se ci fosse disegnato un cuore bidimensionale ok e partendo dal suo cuore questo cuore bidimensionale lo fa diventare tridimensionale con l'energia del suo cuore avatar vediamo come lo vedete se c'è io ho visto solo una porzione la mano sinistra che era poi quella della spalla dolente no credono se è tutto un po' così come se avesse delle porzioni in più per sembrare più possente lo tiene o lo toglie o lo lascia? lo toglie lo sto buttando via si crea proprio una d'eternum tipo un po' psichedelico quasi a intermittenza sembra perché a momenti vedo illuminati i cuoricini di questo adeternum altri momenti i fiorellini molto creativo molto vivo come lo vedi invece tu Elena la d'eternum? se si rivedo quello di prima diciamo unico tridimensionale se è come se avesse mille facce dei cuori e io lo vedo che si aprono i cuori e da dentro escono i fiori poi si aprono i cuori escono i fiori no quasi come un'alternazione si come vedete Dana adesso? a proposito rifiorita come anche è un po' di spiegata come se ci fossero quegli aeroplanini che fai di carta li sciogli e apri questo foglio la vedo così che si è aperta che si è sbrogliata ecco ha sciolto i nodi si vedo che ha aperto anche la sua casa che prima era il guscio ok adesso ha alle pareti spalancate quindi gli spazi dove lei si può sentire a suo agio diventano infiniti entità eteriche esistono ancora? no mentali no disequilibri emozionali no no connessioni di Dana con l'omone della che domina sulla romania no no personalmente no facciamo una prova Dana adesso esce di casa dopo la sessione incontra un'amica che ha bisogno di un passaggio in macchina per andare domani da qualche parte e non di fatto voglia di prendere l'autobus Dana domani ha una giornata importante e cambia i suoi piani per accompagnare l'amica in auto succede questo? no vedo che esce che scrive il numero di una compagnia di taxi e glielo dà no ma è maleducato in romania una cosa così l'omone dice che è maleducato in romania l'omone non c'è più per lei però lo diceva l'omone è così che funziona è l'omone che lo dice per esempio la maleducazione è un elemento o non così non si fa appunto non è tradizione non è religiosamente accettabile in giro diranno che sei un egoista e Dana dice io so qual è la verità di tutto questo so che sto agendo nel giusto per me ci sa conoscere delle leggi che sono oltre alle leggi del paese sono proprio delle leggi universali e lei riesce a cogliere quelle a volte quando mi è capitato in vita mia che mi chiedessero se fossi religioso io non ho risposto sì o no ho risposto sono libero anche se mi ero fatto il cinevac io ho risposto prima cos'è un cinevac è un cinevac perché è un cinevac e poi ho detto no no ma io sono libero sei battezzato io sono libero Dana è libera la regina della casa è libera lei si rende conto che può essere ben oltre la regina della casa come dice Elena lei può trovare la propria realizzazione il proprio star bene al di fuori della casa in altri contesti potenzialmente infiniti vediamone alcuni più probabili allora mi fa vedere la prima tipo a un parco giochi o comunque a un parco dove inizia a dialogare con delle persone che non conosce e da lì è come se nascessero delle occasioni perché trovano dei punti in comune e poi delle occasioni da lì un altro contesto vedo simile entra in un negozio e si parla da cosa nasce cosa e nasce un'amicizia un'affinità con chi con qualcuno del negozio con qualcuno che è entrato nel negozio sì ho visto proprio una scena molto simile a quella che diceva che descriveva Monica dove lei è all'aperto e con questo gruppo di persone con cui parla di cose molto che alle interessano molto quasi come se avessero proprio l'entusiasmo di trovarsi e fare delle cose che piacciono a tutti che non sono per forza le sessioni no 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 non sono per forza le cose cose di suo interesse trova all'esterno della famiglia non c'è nessuno dei familiari proprio nell'ambiente sociale che si trovano per fare delle cose piacevoli per tutti figlie nel cinema cosa fanno sì la piccola vedo che protesta un po sì ma può anche andare su buona la libertà della mamma non è la propria genio questa certo ma questa è la storia della mamma che non è una mamma è dana quindi se non le va bene può anche andare via eh sì perché sia lei che il marito sono sempre stati abituati ad averla al suo servizio esatto siamo individui che che interagiscono con altri individui ma siamo individui non siamo famiglie siamo individui la famiglia non è una condanna è una situazione esce dal cinema o cambia atteggiamento eh fa un po' il broncio e non è cambiare atteggiamento o cambia atteggiamento o esce dai proverò a capire e la grande cosa fa la grande la vedo già più contenta cioè io la vedo mamma la grande è passata quindi capisce a un altro livello quindi non è più la figlia che recrimina le attenzioni della mamma ecco quindi anzi io vedo quasi che rimproverò la sorella finirla di piantarla marito cosa fa e si sente un po mancare la terra sotto i piedi sì lo vedo spersa ma sul cinema sullo schermo del cinema e in generale vediamo e ascoltiamo tutti insieme il messaggio che dana lascia a se stessa bene persi più che un messaggio mi fa vedere lei che diventa tipo una trottola ok che esplora tutti gli spazi infiniti che le si sono aperti davanti questa trottola tutta colorata intidescente quindi è proprio ora sei libera di fare tutte le esperienze da te desiderate monica un po simile perché mi dice ho fatto tante esperienze in tutta la mia vita e adesso inizia la parte della mia vita in cui farò quelle più intense più gioiose vibrazione finale prima monica poi elena 217 217 218 consapevolezza 192 183 ps 58 65 vita 1014 1081 1081 cervello 9.3 111 114 1139 11 nuepe 12 12 12 12 14 15 15 Va bene, siete pronte a tornare?